Dal Giappone alla tua cameretta, Manga News con mangaka e caverna Eccoci ragazzi, buonasera a tutti miei cari amici, bentornati per il Manga News che finalmente in pompa magna io e Luca presenteremo insieme per darvi il meglio delle notizie di mondo anime e manga Partiamo subito direi con la prima notizia di oggi che riguarda Trigon Stampede, ovvero il nuovo anime Quando è uscita l'informativa sono rimasto con la bocca spalancata perché si tratta di una nuova trasposizione animata che arriverà nel 2023 da parte dello studio Orange che si è già occupato di Beastars e Land of Lustrous Si tratta di uno studio che ha sempre lavorato con il digitale, quindi anche Trigon Stampede sarà completamente in digitale però stiamo parlando di prodotti come Beastars e Land of Lustrous che funzionavano fra l'altro benissimo E andiamo subito con la prossima notizia A McDonald, infatti ci sono dei panini proprio dedicati a Gondam Che mondo squisito, ecco parlando di cibo per forza è l'aggettivo che prima mi viene in mente è un mondo di grande estetica, il Giappone soprattutto di tante cose molto molto simpatiche anche piacevoli da vedere prima che di mangiare Andiamo invece a parlare ora di Tokyo Revengers infatti è stata confermata la seconda stagione ovviamente tre manga, top 10 manga più venduti dell'anno non c'erano dubbi ma sappiamo che appunto inizierà a gennaio del prossimo anno è arrivata anche la notizia ufficiale della parte 2 di Chainsaw Man Mamma mia ho preso proprio il cuore stretto tra le mie mani ho detto sì 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 adesso puoi tornare a pompare finalmente l'amore tornerà, l'amore per Tatsuki Fujimoto tornerà anche se questo che stiamo vedendo è in realtà la copertina del one shot di Goodbye Eri che sarà disponibile su Jump Plus la piattaforma digitale e chiudiamo il manga news con questa che poi sarà una notizia che discuteremo insieme l'avevamo già in qualche modo l'avevamo riportata però non l'avevamo discusso le scorse volte esatto ovvero come tutti sapete è stata presa la decisione dalla tutta la redizione di Young Animal anche a seguito di quanto Koji Mori Sensei ha riportato di riprendere la serializzazione di Berserk diamo il benvenuto al più grande esperto nonché conoscitore nonché anche invitato speciale dell'episodio di oggi Caverna di Platone salve e buonasera buonasera Caverna salve buonasera a tutti ciao Luca buonasera ciao a tutti i mangachini ovviamente ci sono tantissime domande dalla chat ma insomma quello di cui vogliamo parlare con te è proprio la ripresa di Berserk cosa ne pensa un fan mi sento di dire di lunga data storico appassionato di Berserk di questa ripresa adesso devo ammetterlo quando ho saputo della notizia ero un po' preoccupato perché non riuscivo davvero a comprendere dove volessero andare a parare qual era il senso della loro scelta chiaramente si tratta di una scelta di marketing e questo è indubbio però c'è anche qualcosa dietro sottende un discorso molto più importante e questo io l'ho compreso soltanto nelle ore successive quando poi ho letto per bene tutto il comunicato e mi ritrovo effettivamente a essere d'accordo con loro nel senso che Berserk è un'opera molto importante è un'opera che ormai ha trasceso già il suo autore purtroppo in senso fisico l'ha già superato naturalmente perché Kentaro Miura è venuto a mancare l'anno scorso e l'opera ha proseguito ha continuato a vivere esatto con un capitolo già l'anno scorso postumo e ora continuerà sono contentissimo della ripresa di Berserk e di questo suo seguito perché? quando ho effettivamente compreso quali sarebbero state le persone coinvolte cioè Kojimori che è letteralmente un fratello per Kentaro Miura in tutti i sensi ho tirato un sospiro di sollievo ho detto ok sarà questo il loro modo di affrontare la cosa Kojimori ha spiegato bene che vorrà raccontare soltanto quello che ricorda dalle serate passate con Miura esatto anche perché loro erano veramente come fratelli passavano il tempo insieme gli raccontava tutto lui conosce tutto il finale di Berserk e questo è fondamentale perché un'opera importante lunga come Berserk il cui tema è proprio la forza di volontà che supera il destino merita di essere portata a compimento e soprattutto diceva anche che lui metterà solo i dialoghi che si ricorda davvero riuscirà si sente in grado di poter ricordare tutto questo oppure dovendo scrivere ciò di cui è davvero sicuro scriverà davvero pochissimo alla fine perché comunque ricordarsi ogni vignetta ogni balloon non deve essere semplice un conto è sapere ok finirà in questo modo un conto è poi invece dover vignetta per vignetta andare a realizzare un'opera capisco la tua perplessità è la stessa che ha attanagliato anche me all'inizio mi dicevo devo davvero credere che Kojimori ricorda tutto e soprattutto devo davvero credere che Kojimori ricorda la perfezione cose che si sono dette 30 anni fa perché di base di 30 anni fa parliamo di questi sì 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 perché nonostante loro parlassero sostanzialmente tutti i giorni e magari avere anche delineato tante cose il finale gliel'ha raccontato nel periodo in cui ha realizzato l'eclissi ok quindi stiamo parlando veramente di tanto tempo fa però già all'epoca insomma i momenti chiave di tutto Berserk fino alla fine sono stati delineati quella sera in cui hanno discusso di come sarebbe dovuto andare avanti il manga con l'eclissi e post-eclissi e lì Kojimori ha comunque affermato che la storia non si è discostata tanto da ciò che gli aveva raccontato Kentaro Miura perciò si sente forte da questo punto di vista nel poter raccontare quello che ricorda però mi chiedo 31 anni fa sono tanti 31 anni fa sono effettivamente tanti ma qui io confido ancora nel fatto che Miura abbia lasciato intendere delle cose al suo staff a Studio Gaga infatti è passato un anno prima di riuscire a diciamo farci sapere che cosa sarebbe accaduto di Berserk e l'hanno detto praticamente due settimane prima della pubblicazione perché questo fine settimana insomma esce Young Animal con all'interno i prossimi capitoli io penso che questo anno di tempo sia servito a loro proprio per riuscire a scrivere un manoscritto e a tirare fuori dalla memoria tutto ciò che poteva ricordare Kojimori integrare con quello che sapevano i ragazzi dello staff di Akusensha anche perché comunque Kentaro Miura proprio all'inizio dell'anno scorso erano uscite per la mostra di Berserk le sue interviste dove raccontava come sarebbe proseguito il manga perciò insomma non è che non esistesse nulla di nulla di nulla certamente non c'erano bozze e questo perché Kentaro Miura voleva realizzare tutto da solo però la storia le persone chiave la conoscevano naturalmente e c'è anche una forte responsabilità da parte loro non possono permettersi come si suol dire di pisciare fuori dal vaso devono raccontare una storia che sia coerente con tutto ciò che è stato realizzato prima da Kentaro Miura un conto è andare a mettere su carta quello che Mori ricorda un conto invece è doverlo collegare per dargli un senso perché magari lui ricorda una parte di una cosa di un'altra non è certo di un'altra ricorda bene e non puoi realizzare delle tavole bianche tra una cosa e l'altra nel senso in che modo lo andranno a collegare dovranno per forza lavorare in inventiva a un certo punto allora io penso sia lecito riflettere su come alcuni passaggi potrebbero essere messi in rima ecco diciamo così ma un po' come è stato anche per il capitolo postumo dove si vede nettamente una parte disegnata da Kentaro Miura e l'altra parte invece inventata di sana pianta dallo studio Gaga cioè io penso che fin tanto che c'è la scintilla dell'originale e fin tanto che Kojimori supervisiona e voglio premere su questa cosa qua perché Kojimori lì presente a controllare tutto oltre a dare la sceneggiatura sostanzialmente è un apporto è un apporto importantissimo perché si tratta comunque di un autore il cui il cui racconti io poi mi sono andato a spulciare tutti i suoi manga sostanzialmente sono pulsanti del rapporto passato con Kentaro Miura io ho trovato dei collegamenti tra i racconti della loro vita e i manga che Kojimori disegna o ha disegnato che sono incredibilmente vividi sono pulsanti del loro rapporto perciò questa dedizione questo suo profondo rispetto e si può dire fratellanza con Kentaro Miura secondo me gli permetterà di raccordare gli eventi insieme all'arte di Studio Gaga nella maniera migliore possibile senza riuscirà completamente a distaccarsi a non mettere nulla di su neanche inconsciamente credi eccoci qua eccoci qua ci siamo è tutto bene Domenico ti sei perso caverna adesso però vabbè avremo un modo vabbè recupererò magari guardando la versione che cos'hai in mano Domenico se chiedo no 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 che cos'era ah un caffè ho visto mi sembrava un ciondolo no 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 assolutamente come hai fatto a confonderti no no era troppo velocemente era solo l'asticella era la rossa da quanto girava velocemente quella asticella quindi Domenico ti ringrazio molto di essere stato con me qua in questo Manga News ti saluta anche tutta tutta la chat purtroppo non c'era tempo per le domande a caverna mi dispiace ma insomma Manga News termina termina adesso ci saranno poi lunedì lunedì prossimo non siamo solo lo yogurt questo è un mondo parallelo di di caverna di vipiteno che bello il multiverso allora buona serata io che ti ringrazio Luca e ringrazio naturalmente tutta la chat un saluto a loro un saluto a tutti i nostri amici di Osaka ovviamente noi ci rivediamo lunedì prossimo con altre scoppiettante notizie informazioni mi cadò e ricchi premi alla prossima ciao 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 ciao